una buona giornata a tutti voi cari telespettatori di fano tv benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 28 agosto 2020 oggi la chiesa ricorda sant'agostino un grande vescovo e dottore della chiesa il sole è sorto alle 6 29 tramonterà alle 20 e 56 diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo per la giornata di oggi oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo un po di vento di brezza lungo la costa sabato il fine settimana l'ultimo fine settimana di questo mese di agosto cielo sereno poco nuvoloso ancora un po di venti nelle zone alto collinari burrasca in montagna mentre domenica peggiora il tempo con le precipitazioni temporali che vedete dal pomeriggio nelle zone anche montane d'alto collinari precipitazioni come dicevo rovesci diffusi soprattutto nel pomeriggio di domenica il possibile stazionamento di una saccatura manterrà condizioni di tempo instabile anche per le giornate di lunedì e martedì poi però c'è incertezza nei previsori e quindi bisognerà capire e stabilire il corretto posizionamento della perturbazione e allora però intanto per la giornata di oggi insomma possiamo dire che il tempo buono è garantito e dunque tempo buono dovrebbe esserci vediamo se abbiamo il collegamento pronto eccolo qua tempo buono anche al mare dove c'è il nostro Tommy il bagnino che dalla spiaggia dei bagni carlo siamo nella in sassonia a fano ci ci dice adesso in poche parole come si presenterà la giornata dal punto di vista anche meteo marino diciamo buongiorno marco buongiorno a tutti anche oggi come potete vedere mare in splendide condizioni oggi è veramente bello era un po che non lo diciamo così e chiaramente bandiera bianca dalle 10 in poi condizioni meteo marine favorevoli per me mentre per il fine settimana come abbiamo visto ti risulta un peggioramento nella giornata di domenica sì ci aspettiamo domenica incerta e adesso bisogna vedere un attimo se l'entità della della perturbazione ecco però comunque ce l'aspettiamo per domenica anche noi sì continuano a esserci i turisti sì anche se siamo in fondo al mese ormai l'estate scivola via sì 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 chiaramente c'è molta meno fluenza della settimana scorsa però ancora è abbastanza viva la spiaggia bene grazie a Tommy grazie buona giornata a te e anche i tuoi colleghi allora apriamo con il corriere adriatico e con la prima pagina del dell'edizione di pesero mascherine c'è la svolta definito l'utilizzo nelle scuole sapete il problema adesso è nelle scuole ci sono diversi diversi punti di vista anche tra gli specialisti nessun obbligo in aula ma solo per gli spostamenti negli spazi comuni degli studenti l'effetto vacanze fa salire il numero dei contagi ma l'r conti è ancora in calo siamo allo 0,56 qui nelle marche oggi all'aeroporto di ancona l'aeroporto di falconare al sanzio a terra il volo da olbia e per quanto riguarda la fotonotizia centro pagina il cantiere di muraglia lavori all'acquedotto romano questa è la notizia la fotonotizia che ha deciso di pubblicare il giornale sulla pagina l'edizione di pesero mentre nelle pagine interne il problema degli autobus posti dimezzati la didattica a distanza per chi resta a piedi questo è un problema serio molte persone molti ragazzi probabilmente saranno costretti a rimanere a casa perché non c'è posto per loro sull'autobus e quindi saranno costretti a fare lezioni praticamente via internet sempre a pesero marche nord congelate le spese del personale covid e poi a urbino la cronaca una betoniera precipita nella scarpata muore l'autista l'autista è un pesarese vertenza della municipale il comune rinvia le risposte allo stato di agitazione dei vigili urbani risponde un capolavoro di tecnicismi entriamo nelle pagine interne le prime due pagine due tre del corriere questa mattina sono sulle sullo scandalo dell'infrastrutture le marche arretrate la fabriano sassoferrato i 12 chilometri strategici che nessuno ha sbloccato l'effetto vacanza invece gonfia i contagi ma l'erre conti cala ancora come abbiamo visto in un giorno 61 casi 30 nel fermano molti sono di rientro dai viaggi nelle marche l'indice di trasmissione a 0,56 i ricoveri scendono a 8 e in volo dalla Sardegna fino a Falconara quindi al Sanzo con un solo test ovvero la temperatura anche oggi arrivano i vacanzieri con l'aereo l'aereo è pieno decollato da Olbia i casi sospetti vengono presi in carico dal presidio sanitario aeroportuale la mascherina a scuola per gli spostamenti negli spazi comuni l'assessore regionale Bravi dopo l'incontro che per l'utilizzo della protezione in classe dovranno essere distanziati dice l'assessore adesso affronteremo il rebus dei trasporti tra le ipotesi gli orari di ingresso differenziati poi invece il sindaco che se ne è uscito di Pesero Matteo Ricci che se ne è uscito con un video dove in sostanza dice fatevene una ragione e abituatevi a metterla a indossarla dunque servono poche regole chiare per l'inizio dell'anno scolastico la mascherina è obbligatoria a sanificare le mani prima di entrare in classe e areare le classi dove stanno i ragazzi con le insegnanti e su Facebook chiarisce la sua posizione in merito a queste regole per l'inizio della scuola il 14 di settembre e dice ragazzi vi dovete abituare la mascherina va utilizzata perché andremo in conto ad un periodo non semplice ma se stiamo attenti ce la faremo mentre sempre su questa questione, la questione delle mascherine come vedete nella pagina di fianco qualcuno dice tipo l'allergologo Bonifazi dice usarla anche in classe può essere determinante tranquilli non fa male e dice anzi filtra il Covid eppure tutto ciò che causa le allergie invece di posizione opposta l'altro esperto che è Massimo Agostini che dice gli studenti non possono indossarla per 5 ore il disagio sarebbe enorme, i distanziamenti importanti ma serve più di un metro negli autobus i posti sono dimezzati per chi resterà a piedi dunque la didattica è a distanza l'Adriabus non ha i mezzi sufficienti per coprire le richieste degli istituti superiori e dunque i presidi dicono subiamo le decisioni dell'azienda di trasporto anche se le aule ci sono quindi in sostanza i presidi hanno fatto di tutto in qualche modo per garantire in presenza dunque gli spazi le distanze eccetera però adesso il problema resta come far arrivare a scuola gli studenti e quindi rischiamo di avere aule mezze vuote perché gli autobus sono troppo pieni questo è un po' il paradosso test sierologici mobilitato anche il distretto sanitario c'è un accordo tra area vasta e servizi educativi per aggirare il problema dei medici di base mentre i nidi e gli asili ripartono a settembre tra il 7 e il 14 per i più piccoli l'inserimento avverrà nell'arco di un mese come spesso accade dalle pagine di pesero sempre del Corriere Adriatico congelate le spese del personale per emergenza e potenziamento c'è un piano triennale di Marche Nord la regione approva solo il costo ordinario e per le stabilizzazioni mentre c'è un omaggio sempre a pesero ai musicisti vittime del covid ritratti dell'anima sono tre giorni di musica immagini e parole con gli amici nel fossato di Rocca Costanza da pesero per ricordare Raniero Cecchini, Mirko Bertuccioli, Eugenio Giordani, Vittorio Gennari e Sergio Guerra mentre oggi nella chiesa del Porto alle 16.30 ci saranno i funerali di Ciccio Tausani 67 anni, morto mercoledì pomeriggio i vigili urbani sempre dalle pagine di pesero del Corriere Adriatico il Comune sceglie il politichese allo stato di agitazione degli agenti replica con un copolavoro di tecnicismi mentre sulla manutenzione dell'acquedotto romano l'interquartieri rimane ferma al palo ospedale di Muraglia, a Muraglia c'è l'ok ma il Santa Croce non si tocca il Partito dei Comunisti presente il candidato Fabio Pasquinelli e la squadra pesarese sul Recovery Fund 8 miliardi alle marche vedete il titolo e Gualtieri lancia la volata a Mangialardi il ministro dell'economia a Osimo per ufficializzare il programma del candidato governatore Vallefoglie invece sempre dal Corriere a scuola ci sarà più sicurezza il problema è il trasporto anche qui vedete più o meno la stessa situazione la sindaca di Montellabate Cinziaferri annuncia le novità distanziamento ma non le mascherine quindi come vedete si va un po' in ordine sparso la cronaca invece da Urbino Betoniera precipita per 30 metri un autista schiacciato nella cabina muore Egiziano Donnini 54 anni pesarese l'incidente nella zona tra Gadana e Castel Cavallino a Fano invece i tamponi per gli autistici ora in campo tutti gli enti criticato l'approccio di alcune famiglie ma l'Asur ammette gli errori mancano invece soltanto gli ultimi esami Covid agli utenti e poi il centro Margherita è pronto a riaprire per i congiunti dei malati dei malati di Alzheimer è stata irragionevolmente lunga questa sospensione mentre al Pincio c'è qualcuno che protesta perché al Pincio si sono vissuti momenti come in una discoteca prima della pandemia quindi con tanta gente con tante persone e le norme sono state praticamente ignorate il Corriere anche sulla pagina di Fano sulla pagina 2 di Fano questa mattina pubblica la notizia dell'incontro che c'è stato ieri a Passaggi Festival con Gianluigi Nuzzi che ha scritto un libro sul Vaticano giudizio universale Vaticano sull'orlo del crack sarà un autunno di povertà Nuzzi e i segreti dell'economia della Chiesa le riforme di Ratziger e Bergoglio i ristoratori chiedono l'apertura delle Chiese invece ai piccoli luoghi di culto di Fossombrone a rinforzo del richiamo di San Filippo con Lega Ambiente promossa la restituzione dei contenitori dei cibi di asporto mentre da Colli al Metauro Scuolabus le domande entro il 4 di settembre dalla Valle del Cesano invece natura ed esperienza con lentezza l'estate della vacanza alternative marchigiani e stranieri scoprono le bellezze della Val Cesano una serie di mete incantevoli mentre da cattolica ma interessa praticamente tutti perché tutti gli sportivi che amano la MotoGP purtroppo c'è la decisione che si correrà a porte chiuse c'è rammarico ma per gli operatori è giusto non rischiare da Senigallia tre classi del Perticari vanno al campus il Medi utilizza l'infermeria e il ripostiglio grandi manovre per rispettare le distanze al Pansini, Aula e al Piano Terra al posto di uffici e laboratori poi dalla cronaca come vedete nell'altra pagina in fuga con una bicicletta rubata ha preso il ladro e un ladro molto giovane perché ha solo 12 anni è stato bloccato dalla polizia sul lungomare Marconi non è imputabile dunque lo consegnano ai genitori mentre sulla pagina di Sport la pagina di Sport del Corriere abbiamo la notizia che arriva dalla Vis protocolli diversi niente test della Vis con Urbino e Gallo dunque saltano queste amichevoli tamponi e test sierologici soltanto per i professionisti e non per i dilettanti dunque non si può giocare l'abbiamo visto qualche giorno fa i professionisti sono obbligati a farlo anche un paio di volte alla settimana mentre questi test mentre per i dilettanti basta un'autocertificazione e dunque non si può certamente rischiare questo Fano invece mi ispira fiducia Offidani il nuovo patron del De Granata dell'Alma Juventus Fano ieri sera a cena con il sindaco e le autorità ha parlato della fideiussione che è stata sostituita e dice ora siamo ripartiti abbiamo un buonissimo gruppo e Alessandrini l'allenatore sta stimolando i nostri ragazzi alla grande mentre per quanto riguarda l'AVL a destra vedete buona la prima esami veri con la Supercoppa la squadra a Imola contro Reggio è subito piaciuta ora nel Mirino c'è Brindisi la palla a volo stavolta la Lube vola chiude in 3-7 il secondo allenamento congiunto disputato nel Perugia vince dunque la Lube 3-1 contro un'altra grande del volley adesso andiamo invece a vedere le pagine del resto del Carlino allora prima pagina l'edizione di Pesaro in fotonotizia contagi come ad aprile in provincia 17 positivi non succedeva da 4 mesi e mezzo mentre il medico a luci rosse risarcisce le pazienti ricorderete il medico che palpeggiava durante la visita ha versato 1000 euro alle maggiorenni e 4000 euro invece alle minorenni la betoniera in manovra finisce nella scarpata muore il conducente a Urbino il conducente è un pesarese mentre verso le regionali Zingaretti la rimonta è possibile dunque ammette Zingaretti che il centro-sinistra nelle Marche è in difficoltà stando ai sondaggi stando alle ultime proiezioni il centro-destra con Acquaroli in testa dunque resta diversi punti piuttosto insomma importante diversi punti sopra avanti rispetto a Mangialardi mentre c'è una notizia che tra poco vedremo dalle pagine interne da Montenerone è stata scoperta una grotta profonda circa 100 metri ed è affascinante straordinaria come cosa caos scuolabus presidi in rivolta il 50% quindi la metà dei ragazzi farà lezione da casa questa è la previsione mentre Ciccio Tausani oggi l'addio nella chiesa del Porto lo sport dalla prima pagina del Carlino visse niente amichevole d'Urbino ieri è stata annullata dalla Lega perché i dilettanti non si sottopongono ai tamponi la Vuel invece alle prese con il rebus dei tifosi la regione non risponde ancora alla richiesta della società che preme per ottenere 2700 posti a sedere 2700 quindi persone l'altalena del Covid nuovo balzo 17 positivi mai così male in provincia parliamo della nostra provincia quella di Piesa Urbino dall'11 di aprile tra le cause contatti con positivi e rientri dall'estero i sintomi sono lievi per 5 di questi positivi l'età media però si abbassa e dunque ben 17 sui 61 che sono stati diagnosticati in tutte le marche sono appunto in provincia di Piesa Urbino il caldo il caldo non ha non l'ha smorzato questo virus semmai sono i nostri comportamenti che lo tengono a debita a distanza lo dimostra il fatto che anche un contatto più o meno prolungato con un positivo può scatenare un micro focolaio come è accaduto a 4 pesaresi asintomatici che hanno incontrato una persona residente a Padova parente di uno di loro poi risultata affetta da Covid-19 e io sarei curioso però di capire quanto tempo occorre per rischiare di essere infettati quanto tempo all'inizio di questa pandemia quando ancora tutti dicevano tutto si parlava di 15 minuti almeno poi non se n'è più parlato in realtà e questo è un dato interessante bisognerebbe avere una risposta se c'è ancora una risposta se quella tesi iniziale è ancora valida oppure oppure no ritengo di sì anche se non sono un esperto ma comunque è chiaro che per essere contagiato insomma bisogna stare con la persona infetta almeno un po' di tempo perché altrimenti sarebbe una strage intanto c'è una storia letto fine quella che riguarda Andrea Maggi un olimpionico di pugilato che adesso può andare a Tel Aviv per riabbracciare la moglie in questi cinque lunghi mesi di separazione si è battuta come un leone per farmi rientrare in famiglia l'enigma dei trasporti anche trova spazio sempre sulle pagine del Carlino di Pesero i presidi perdono le staffe quindi si arrabbiano troppi dubbi anche perché loro stanno facendo di tutto per trovare spazi come abbiamo visto all'interno delle aule e poi quelli dei trasporti in realtà dicono noi non ci abbiamo i mezzi e quindi fateli studiare da casa capite che le staffe si perdono e come ci sono però troppi dubbi lezioni da casa per metà degli alunni questa è la previsione Adria Bus gela i dirigenti e parla di capacità di carico del 60% dunque impossibile attuare la settimana corta e loro tagliano la testa al toro l'ipotesi calteggiata dalle scuole era cinque giorni in presenza e uno a turno praticamente no a casa ma questa ipotesi come abbiamo visto è appunto sfumata perché insomma questi presidi questi presidi non non ci stanno oggi i governi regioni intanto torneranno a confrontarsi sul trasporto scolastico e quindi si spera che si possa trovare insomma una una soluzione intanto da Fano la mascherina il gel e la matita saranno lì per tutti coloro che andranno a votare nel mese di settembre le nuove regole per esercitare il diritto democratico dalla sanificazione delle cabine ai cambi di seggi l'assessore Cucchiarini fa il punto della situazione ora a Fano saranno 51.171 i fanesi che sono chiamati ad andare a votare per eleggere il nuovo governatore e poi tutto il consiglio il 20 e il 21 di settembre questo ormai lo sappiamo bene si vota per le elezioni regionali è un lavoro molto importante dice un lavoro immane di coordinamento dice l'assessore Sara Cucchiarini dell'ufficio elettorale saranno garantite periodiche operazioni di pulizia dei seggi dice presidente e scrutatori avranno a disposizione mascherine e guanti le scuole saranno dotate di gel disinfettante faremo in modo di evitare assembramenti e assicurare il distanziamento come avviene il riconoscimento dell'elettore su richiesta del presidente il cittadino dovrà abbassare la mascherina restando però a due metri e deve sanificare le mani prima di prendere la matita quindi c'è anche questo questa questa tutte queste operazioni che chiaramente avvengono per la prima volta insomma anche questa sarà un'esperienza andiamo avanti anziani disabili e malati porte aperte per tutti con la ripartenza lunedì del centro alzheimer il famoso centro margherita tornano attive le strutture sociosanitarie chiuse dopo la pandemia la missione dunque è compiuta poi c'è il caso dei ragazzi autistici invece l'area vasta ha ribadito la validità dei tamponi dopo le proteste delle mamme le mamme avevano chiesto lo ricordiamo il sierologico perché meno impattante meno invasivo eccetera però dall'area vasta è arrivato il niente dicono no perché il tampone è quello che certifica con esattezza se uno è positivo oppure no a Cartoceto l'opposizione tuona questo bilancio è tutto sbagliato Gianluca Longhi capogruppo di minoranza consigliare di Cartoceto boccia il consuntivo 2019 contestate le spese e gli investimenti e parla di progetti che però sono solo sulla carta poi c'è la liberazione il settantesimo anniversario della liberazione di Fano dal nazifascismo anche se per evitare gli assembramenti il Comune ha scelto di limitare la presenza delle persone dunque depositata ieri pomeriggio la corona dall'oro davanti al monumento dei partigiani nei giardini Biancheria Morelli e questa invece è la pagina 5 del resto del Carlino dove si parla del medico che vedete in questo riquadro 69 anni di Peglio ex primario di Sasso Corvaro che ha risercito 12 pazienti sono le 12 pazienti che l'hanno denunciato perché le toccava all'inguine con la scusa di doverle sentire il polso femorale ha versato 1000 euro alle pazienti maggiorenni e 4000 euro invece attesta alle due pazienti minorenni dopo aver pagato il risarcimento il cardiologo ha patteggiato la pena di un anno e 4 mesi e 20 giorni la pena è stata sospesa una betoniera finisce nel dirupo muore l'autista aveva 54 anni si chiamava egiziano Donnini ed era di Pesero inutili i soccorsi da parte del 118 dei vigili del fuoco si trovava in una zona di campagna vicino a Castelcavallino erano passate da poco le 17 di ieri un attimo dopo le ruote di questo pesante mezzo sono scivolate verso il dirupo ed è stata la fine per questo autista di 54 anni proprietario anche oltre ad essere autista del camion mentre domani a Urbino il giro d'Italia di ciclismo Under 23 sarà tutto intorno ad Urbino un anello di 150 km che porterà percorrere per 4 volte la strada passando per le Capute e per la città di Fermignano poi c'è questa notizia che è davvero straordinaria bellissima affascinante questa scoperta sottoterra una grotta di 100 metri addirittura sono state ritrovate anche delle forbici che il giornale pubblica vedete certamente non saranno chissà di quanto tempo va però insomma hanno sempre il loro fascino insomma ma la cosa bella questo intanto è il gruppo che ha fatto la scoperta Marta Paceschi Fabio Perfetti Rachele e Marco Bani sono questi 4 speleologi i primi 4 che sono entrati nella grotta del Montenerone ma la cosa bella che racconta questa mattina Medeo Pesciolini che ha incontrato il gruppo dice dice questo durante una ricognizione con mia nipote Benedetta il suo fidanzato proprio lui Michele in virtù dei pantaloni corti e delle scarpe basse che indossava a un certo punto ha sentito pensate immaginatevi la scena un frescolino al polpaccio cioè mentre era là sotto ha sentito uno spifero d'aria potremmo dire così uno spifero d'aria un frescolino al polpaccio l'aria fresca usciva da un buco largo appena a 4 dita capite voi la posizione appariva assurda ma quest'anno ho cercato il minuscolo pertugio e ho deciso di inseguire quella rietta la corrente si è intensificata e rivelata costante dunque da lì tutto il gruppo poi si sono unite un sacco di persone chiaramente esperte non era una passeggiata e alla fine che cosa hanno scoperto hanno scoperto una grotta bella e promettente che si presenta con quasi 100 metri di sviluppo e contenuti subito interessanti costituiti da fossili incastonati nelle pietre crollate dal soffitto e che cosa vabbè poi c'è tutti altri particolari che che fanno capire che quel passaggio in realtà era stato già quella grotta era stata già utilizzata era stata poi richiusa eccetera eccetera e qualcuno ipotizza che forse quel posto si trattava di faceva fungeva da covo insomma da nascondiglio della famigerata banda grossi ecco insomma poi c'è tutto il racconto ancora che va avanti con tutti i dettagli particolari se avete voglia potete leggerlo e comprare il giornale ovviamente in edicola e approfondire questa questa notizia velocemente siamo sulla pagina di sport del resto del carino la VL in 2700 al pala secola proposta il presidente Costa sul problema delle capienze abbiamo presentato uno schema alla regione senza pubblico chiudiamo chiaramente lo sport è fatto anche di incitamento di tifo eccetera quindi senza lo sport chiaramente non è più viene snaturalizzato allora mondiali di superbike invece da Fano Gagge è ora di tirare fuori gli artigli superbike oggi le sessioni di prove ad Aragon dunque per questo giovane fanese alle 15.15 c'è tra l'altro anche la diretta anzi in caso di qualificazione gareggerebbe domani alle 16.30 domenica alle 15.15 con diretta Sky quindi insomma deve fare di tutto Marco Gaggi che qui vedete inserita la sua moto per come dire per qualificarsi e quindi dare dimostrazione di quello che vale allora noi ci fermiamo qua perché la rassegna stampa direi che è finita possiamo terminarla qui allora vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che anche oggi su Fano TV ci sono degli appuntamenti che riguardano le dirette con passaggi stiamo trasmettendo incontri molto interessanti e allora rimanete sul canale 17 noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale arrivederci a